Salve ragazzi e benvenuti, oggi video super super personale, infatti non andremo a trattare metodi di guadagno oppure airdrop e tanto altro ma voglio semplicemente andare a fare una chiacchierata con voi che mi seguite già da diversi anni quindi ho delle cose da dirvi molto importanti che riguardano il futuro di questo canale youtube per questo prestate la massima attenzione perché non ho voglia di editarlo oppure aggiungere effetti perché voglio semplicemente annunciarvi una cosa abbastanza importante di questo canale chi segue questo canale youtube sa benissimo che abbiamo iniziato questo percorso andato a condividere metodi per guadagnare soldi online attraverso magari bonus in vita un amico ho portato centinaia di bonus già all'inizio e tante persone comunque sono riuscite a guadagnare un bel po' di soldi e soprattutto all'inizio sono andato a condividere diversi spunti riguardanti il mio percorso all'interno del mondo delle cripte anche perché il mio percorso riguardante proprio il business online è iniziato all'interno di questo settore dopodiché col passare del tempo ho deciso di andare a condividere la mia esperienza riguardante magari determinati modelli di business vi ho portato magari l'esperienza di Leonardo Vecchio attraverso i backdrop shipping vi ho portato anche la mia esperienza riguardante l'e-commerce e soprattutto sono andato a condividere la mia esperienza riguardante youtube anche perché youtube è il modello di business che mi ha svoltato praticamente la vita dopodiché ho deciso anche di andare a realizzare un mio percorso di formazione che attualmente è chiuso dove sono andato a condividere la mia esperienza riguardante youtube e come andare a realizzare The Cashco Channel infatti attualmente oltre a questo canale youtube ho altri tre canali youtube e per questo state vedendo anche un discreto calo di realizzazione di contenuti nel canale e posso dire di essere stato abbastanza soddisfatto però tralasciando questo non è il discorso che voglio andare ad affrontare perché comunque ho deciso anche di chiudere questa accademia perché ragazzi dopo tutto questo tempo che sono andato a condividere tutto il mio percorso riguardante il business online in generale penso che ho aiutato anche diverse persone ad avviare il proprio business oppure semplicemente per essere un punto di riferimento per quanto riguarda il business online in generale ho deciso di darvi un annuncio molto importante poiché chi mi segue dall'inizio sa anche bene che questo canale youtube è nato per andare anche a condividere ciò che riguardava il mio percorso riguardante il mondo delle cripto poiché nel corso degli anni ho visto anche che questo argomento non vi piaceva più di tanto non c'era tanto interesse nel canale l'ho un po' abbandonato e quindi non vi ho parlato di questo percorso però dietro le quinte è stata una cosa che ho sempre fatto anche per quanto riguarda il discorso del trading online quindi ragazzi il frutto del discorso attualmente è quale come avete potuto sicuramente notare c'è stato un discreto calo di realizzazione di contenuti in questo canale negli ultimi mesi semplicemente perché mi sento meno motivato in questo momento a trattare metodi di guadagno oppure andare a condividere quella che è la mia esperienza attraverso i cash co channel anche perché principalmente non ho modo di mostrarvi quello che sto andando a realizzare con i cash co channel perché andandoveli a condividere andrei a creare semplicemente concorrenza in quella nicchia dove sto andando a lavorare quindi attualmente non mi sento motivato più a parlarvi di metodi di guadagno ma mi sento molto molto più motivato a parlarvi di un discorso riguardante il trading online principalmente sull'asset di bitcoin e quindi andare a condividere quello che è il mio percorso riguardante il settore delle cripto e quindi da oggi in poi non credo che ci saranno più contenuti riguardante qualche metodo di guadagno in generale ho intenzione di trattare principalmente il settore degli airdrop riguardante il mondo delle cripto che è sottovalutatissimo in Italia e che comunque sono delle ottime ottime opportunità per guadagnare delle cripto gratuitamente e poi voglio andare a condividere tutto il mio percorso che riguarda il trading online perché è da anni che ci sto dietro è stato un continuo tira e molla ma in questi mesi ho deciso di mettermi e focalizzarmi quindi questo sarà lo sviluppo di questo canale youtube prossimamente vedremo principalmente contenuti riguardanti il settore delle cripto e il trading online mi sento che il capitolo riguardante il guadagno online in generale è terminato per questo voglio voltare pagine e affrontare un nuovo capitolo con voi all'interno di questo canale ho realizzato anche un secondo canale riguardante le cripto sia crypto space però poiché mi appassionava molto di più andare a realizzare contenuti su quel canale stavo abbandonando completamente questo qui principale quindi ho deciso comunque di portare questi argomenti in questo canale mio di 30.000 iscritti detto c'è ragazzi questo era l'argomento di cui volevo parlarvi per molti potrebbe essere una cosa scontata però per me è un annuncio molto importante perché riguarda l'inizio di un nuovo capitolo in questo canale quindi rimanete sintonizzati perché riguarda sempre un metodo di guadagno ossia gli airdrop e il trading online è un metodo di guadagno diverso ma ci andremo a concentrare principalmente su questa nicchia vi ringrazio per tutto perché se questo canale attualmente ha 30.000 iscritti e solamente però per la vostra voglio sapere anche la vostra opinione a riguardo magari lasciando un commento e noi ci vedremo nei prossimi contenuti ciao